Allora, mi chiamo Giulio Menichelli, ho scelto da 5 anni, ho scelto da conservatore di Santa Sicilia e in contemporanea con molti altri maestri, i più importanti per me sono stati Charlum Buder che era il concertino a tempo dell'Opera di Roma, poi c'è stato un maestro molto bravo, famoso, che si chiama Georg Munch, che è un maestro tedesco-russo, metà tedesco dell'Opera di Roma, dove mi ha trasmesso molta tecnica, molta bravura di lui e poi ho studiato due anni a Sion, dove ho portato anche un altro maestro americano che è molto bravo, si chiama Sergio Schwarz, ho studiato con lui due anni, ho preso la laurea e poi nel frattempo mi sono anche diplomato in conservatore. In Accademia ho studiato tre anni, ho fatto i corsi di perfezionamento di violino e musica da camera e in contemporanea ho fatto l'Accademia di Sion in Svizzera e ho studiato anche con Verbo e a Cardo anche, due violisti molto molto virtuosi, famosi, che un po' mi hanno aiutato. Tuttavia è stato molto difficile raggiungere certi livelli, ho dovuto studiare molto, molto concentrato, molto concreto, però sono felice di aver raggiunto un buon obiettivo. Ora oggi cerco lavoro, facendo audizioni in giro di orchestre molto importanti, quali Maggio Fiorentino di Firenze, Genova, l'orchestra del teatro e poi a Milano ho tentato con la Scala e a Roma con l'Accademia. Tuttavia non è molto facile perché siamo tanti in cerca di lavoro e quindi ogni volta è un sorteggio. Comunque oggi lavoro nelle scuole, nel frattempo cerco un'orchestra. Sono molto contento di suonare qui stasera nel Museo del Mare e molto contento di essere stato invitato in questa serata e sono anche contento che la gente mi stia piacendo, quello che io e la cantante e il pianista stiamo riuscendo a realizzare. Non abbiamo fatto molte prove ma la gente sembra felice di stare riuscendo. Sono molto felice anche di essere a Ischia perché io sono una parte dell'isola dove non ero mai stato. Ero stato nell'altra parte quando ero più piccolo per un'orchestra del teatro dell'opera giovanile, di sempre di Roma. Mi piace anche molto questa parte dell'isola.